Ciao a tutti, oggi siamo tornati con uno spacchettamento di Adrenalin XL, infatti andremo ad aprire questi 5 pacchetti. Speriamo di trovare tanta bella roba, speriamo anche in un top player. Iniziamo subito. Iniziamo col primo pacchetto. Ah, iniziamo subito con la speciale, che è l'assisman di Zaccagni del Verona. Poi l'idolo di Larsen. Ucccani del Torino. Terracciano della Fiorentina. Beresinski della Samp. E Mandragora dell'Udinese. Dai, il primo pacchetto facciamo finta che non l'abbiamo aperto. Andanovic dell'Inter. Quagliarella della Samp. Quagliarella della Samp. Chiellini della Juve. Cassata del Genoa. E la Super Combo di Caputo. Il Ciccio Nazionale. E la terza volta che lo trovo. E bastoni diamante. Questo qua è un ottimo pacchetto, perché abbiamo trovato tante carte di tante squadre molto forti. Togliamo sempre le prime due carte, che sono le speciali. E siamo con Gunther del Verona. Nguintink dell'Udinese. Crescido del Genoa. Cumbulla del Verona. Ok, vabbè, adesso sta alla Roma. E, pariente, la carta invincibile del primo tempo. Che è la Tempesta Azzurra. Con Donnarumma. Buonucci, Barella e Immobile. Tutto 100. E il guanto d'oro di Andanovic con 98 di difesa. Per me il video può anche finire qua. La Tempesta Azzurra. Dai, adesso troviamo un altro player. E... Apriamo l'ultimo pacchetto. Questo qua, adesso ci troviamo un altro player. Masiello del Genoa. Anchersen del Genoa. Allora. Da Widowicz. De Frai. Dell'Inter. E Mkhitaryan Stella della Roma. Con 94 di controllo palla. Ma io ho qualche problema con le doffioni dell'Inter. Ho trovato tre volte il diamante di bastoni e due volte il guanto d'oro di Andanovic in due pacchetti di fila. Vabbè, meglio per voi, perché avete più codici di Andanovic e guanto d'oro. Abbiamo già trovato una supercombo di Caputo. La Tempesta Azzurra. E la stella di Mkhitaryan. Allora. Patrick della Lazio. Baselli del Torino. In codice a barra come il nome mio. Teodor Zik. Dell'Udinese. Muldur del Sassuolo. Sean Specialista del Genoa. E il Ramirez Supercombo. Abbiamo trovato molte belle carte. Tra cui Caputo. La Tempesta Azzurra. Il guanto d'oro. E aspettate un attimo che lo trovo. Mkhitaryan Stella. Abbiamo trovato molte belle carte. Sicuramente speravo di trovare una di queste. Che è questa. Oppure un top player. Però comunque è andata bene. Ci vediamo una prossima volta. Ciao a tutti.